Ciao, io sono Tommaso e oggi parliamo di keyframes. Sì, i keyframes in parole povere sono praticamente dei frame chiave che noi andiamo a puntare all'interno della nostra timeline e in virtù del punto che andiamo a battezzare come inizio e del punto che andiamo a battezzare come fine possiamo decidere di fare dei cambiamenti omogenei dal punto A al punto B. Avete capito? Forse non è così facile da capire se non lo avete mai utilizzato ma diamoci un'occhiata direttamente sulla timeline in modo che possiate capire meglio come funziona. Eccoci qui, prendiamo la nostra clip, per esempio questa in cui abbiamo l'intenzione di utilizzare dei keyframes per ad esempio utilizzare uno zoom. Partiamo da zero. Dove si trovano i keyframes all'interno della nostra pagina edit? Si trovano tutti qui a fianco. Questi diamantini che vedete qui lateralmente sono i keyframes che noi possiamo andare ad attivare nei vari pannelli dal composite al transform, al cropping, ai dynamic zoom e via dicendo. Questa è la prima parte dove possiamo trovare i keyframes. Li troviamo anche nella sezione Fusion e nella sezione Color. Ma per ora ve li mostro qui per darvi un'idea di come funziona questo gioiellino importantissimo all'interno di DaVinci Resolve. Ma non solo DaVinci Resolve, si trova in tutti i programmi di videoproduzioni. Su DaVinci Resolve si struttura e si comporta così. Prendiamo la nostra clip, ad esempio la 0001 e vogliamo andare a fare una zoomata su quest'isola qui. Quindi da questa immagine voglio arrivare a zoomare moltissimo sull'isola qui in fondo. La prima cosa che dovrò fare è decidere dove andare ad apportare quindi il keyframe e lo vado ad apportare in zoom. Che vedete è a 1030, già vado a cliccare il mio keyframe sullo zoom. Vedete che si è attivato un pallino arancione qui. Ma si è attivato un pallino arancione anche parziale di transform. Se io per assurdo volessi spostare anche i keyframe riguardante la position, quindi la posizionamento di destra e di sinistra, andrei ad attivare anche il secondo keyframe. Se volessi attivarli tutti, potrei semplicemente andare a pigiare sul keyframe riguardante la trasformazione che mi permetterà di andare a memorizzare tutti gli spostamenti che farò all'interno della cartella transform. Esempio pratico. Da qui partiamo e voglio arrivare a questo punto dell'immagine con uno zoom notevole sull'isola. Quindi prendo e inizio a spostare il mio zoom. Vedete che appena ho iniziato a spostare il mio zoom, si è automaticamente riattivato il pallino del keyframe. Perché? Perché si ricorda che ce n'era già uno precedentemente. Stessa cosa per quanto riguarda la position. Mi sposterò in alto e mi sposterò a sinistra per andare ad avvicinarmi alla mia isoletta che voglio tenere all'interno, al centro dello schermo, abbiamo detto. Quindi mi posiziono qua e magari scendo ancora un po' per avere la mia isola al centro. Vi faccio vedere che cosa è successo. Quindi do play ripartendo da qui. Ed ecco che il mio zoom va a finire nell'isola fino a questo punto e poi si ferma. Perché sono arrivato fino a questo punto qui. Vogliamo vedere dov'era il punto esatto, basterà andare avanti e indietro con le nostre freccine qui laterali per vedere i punti esatti della timeline dove sono stati posizionati i keyframes. Nulla ci vieta di mettere più keyframes. Adesso facciamo un esempio un po' più assurdo. Facciamo intanto un reset così imparate anche come si fa il reset ed è cliccando questo pulsante qua. Voglio ad esempio zoomare sulla barca. Quindi parto da qui dandogli un keyframe generico. Arrivo qui e voglio andare a zoomare notevolmente sulla barca. Dopodiché mi sposterò avanti, mi fermo. Voglio ritornare alla posizione iniziale. Quindi gli darò uno di nuovo a tutti. e poi voglio arrivare qui e avvicinarmi di nuovo all'isola. Vedete che ogni volta che io faccio degli spostamenti ho dei keyframe che si attivano qui lateralmente, sempre. Ok, visto che non l'avevamo ancora fatto, facciamo anche, visto che abbiamo attivato questo keyframe, facciamo anche una rotazione di tutto quanto. Quindi partiamo, ovviamente la rotazione partirà dall'inizio. Vedete che sta già iniziando la rotazione perché l'ho mantenuta e l'ho spostata in questa maniera qua. Ho fatto un esempio per farvi capire come funziona il framing anche in condizioni differenti. Però è giusto per darvi un'idea. Vado ad azzerarlo e la stessa cosa posso farla con il cropping. Ad esempio, se voglio andare a far comparire un'immagine sopra ad un'altra, in questa maniera qua, da questo punto qui voglio iniziare a togliere piano piano questa immagine per far vedere quella che c'è sotto. Ok? Una sorta di transizione fatta a mano. Quindi vado ad attivare il cropping e gli dico che qui voglio che il crop sia terminato. Quindi ci troveremo in questa condizione qui. Partenza. Comincia il crop. Ora. e arriva l'altra immagine successiva. Questo se lo vogliamo fare sul crop. Ovunque ci siano i nostri keyframes, noi potremo andare a giocare e a lavorare con queste tecniche. Ad esempio, me ne faccio vedere un'altra, visto che siamo qui. Ad esempio, quella dell'opacità potrebbe essere interessante. Quindi creo una sorta di transizione opaca. prendo la mia clip e gli dico di andare sempre più in trasparenza per farmi vedere quella sottostante. Quindi partirò e... Ecco che arriva la clip successiva. Bene, queste le basi del keyframing. Ovviamente si parte da questo e si passa anche a situazioni più avanzate, anche nella sezione color e nella sezione fusion. Ma saranno argomenti di altri tutorial e anche argomenti che ho affrontato nel corso completo che trovate qui sotto in descrizione. Tra l'altro in descrizione trovate anche un codice sconto che vi permetterà di avere 50 euro di sconto sul pacchetto full di tutto il corso di DaVinci Resolve. Spero che anche questo video vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto, cliccate mi piace sul video. Iscrivetevi al canale se non vi eravate ancora iscritti. Ricordatevi di attivare anche la campanellina per rimanere aggiornati su tutti i prossimi video che usciranno. Ricordatevi che gli appuntamenti con me su questo canale sono il martedì con la diretta live per rispondere alle vostre domande, il mercoledì con le videoproduzioni e i test e le recensioni dei vari prodotti che mi vengono inviati o che compro in giro in rete, il giovedì con le pillole di DaVinci Resolve che vi state guardando proprio qui. Ah, qui sopra c'è una playlist con tutte le pillole che sono uscite fino ad oggi. Non mi resta che salutarvi, ci vediamo con il prossimo video. Ciao!